Caldo record, la settimana più bollente dell'estate non perdona. Le vittime sono anziani ma anche parecchi giovani. Svenimenti, vertigini, malori. In tre giorni sono 750 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Anche Vicenza rientra tra le zone Bollino Rosso del Veneto, in cui la regione dichiara lo stato di allarme climatico fino a giovedì 2 agosto. Il Comune ha attivato il servizio Estate Sicura, per cui anziani e persone sole in difficoltà a causa dell'AFA possono contattare il numero 0444 22 1020. Tra i servizi gratuiti c'è il supporto in casi di emergenza, l'assistenza domiciliare urgente, interventi sociosanitari, la consegna a domicilio di farmaci, il pronto intervento per guasti all'erogazione di acqua, luce e gas e l'accoglienza di urna in centri per anziani con climatizzazione.